i suoi primi passi mossi qua a Como, ce n'ha parlato ieri il responsabile tecnico del tennis Como oggi a proposito di fenomeni ne abbiamo un altro ma in questo caso non gioca a tennis o meglio forse anche sì perché lui è uno sportivo pazzesco ma va in moto da dio ed è bravissimo con le dune del deserto sto parlando di Jacopo Ceruti abbronzatissimo perché se lo vedete sì perché è stato nel deserto ma è stato anche alle Maldive a fare la vaca possiamo dirlo e allora è qui con noi fenomeno vero del motorismo comasco nazionale direi che quest'anno con moto italiana e con l'Aprilia insomma straordinario successo poco tempo fa nella Africa Eco Race ciao Jacopo intanto benvenuto grazie 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 a voi per l'invito complimenti complimenti Jacopo per questo straordinario risultato emozione vera perché poi ho visto tanti social ti hanno seguito pilota italiano moto italiana era la tua prima esperienza con l'Aprilia è stato un gran successo hai avuto anche avversari importanti cioè non è stato facilissimo ma bravo no non è stato facile però alla fine le cose che poi ti sudi di più sono quelle più belle no poi abbiamo abbiamo fatto sempre tanta lotta soprattutto con tarresse botture due piloti Yamaha ufficiali quindi anche secondo me un po' questa cosa di fare questa questa battaglia così che è durata due settimane ha fatto tanto appassionare il pubblico e poi ovviamente come dicevamo prima il fatto che insomma pilota italiano moto italiana torna a vincere nel deserto non me l'aspettavo neanch'io ma è stata veramente un ho ricevuto messaggi tantissimi messaggi infatti è stato un riscontro un riscontro importante cioè vuoi che appunto pilota italiano con moto italiana poi quindi questa questo binomio beh poi devo dire che forse anche questa volta l'Aprilia ha preparato veramente al meglio questa straordinaria esperienza quindi devo dire che è andato tutto bene no Jacopo sì sì beh è stata un'esperienza pazzesca e poi oltretutto correre con una con la tua Areg diciamo partendo dalla base di serie lavorandoci meno di un anno siamo riusciti col team G Corse con i fratelli Guareschi con tutta Aprilia Racing a dare da supporto alle spalle siamo riusciti a sviluppare una moto che poi è stata in grado di vincere un rally africano e non è una cosa da poco perché comunque sono moto c'è lo stress a cui sono sottoposte le moto in un in una sola giornata di Africa è veramente altissimo ecco molti ci ci chiedono ci hanno chiesto Jacopo allora non era la Dakar non è la Dakar quella vera e propria anche se il percorso di fatto un po' lo richiama la Dakar giusto in Mauritania sì questo è praticamente è il percorso della della vecchia storica Dakar che arriva appunto a Dakar in Senegal quando nel 2009 la Dakar vera e propria si è spostata in Sud America per motivi legati dicono legati al terrorismo poi non si sa realmente alcuni dei fondatori storici diciamo della Dakar dei personaggi della Dakar si sono reinventati questa gara che all'inizio è sempre stata una gara molto seguita abbastanza amatoriale che ricalcava il terreno della diciamo i percorsi della vecchia Dakar Jacopo scusami solo un attimo per dire ai nostri ascoltatori telespettatori che ci guardano sui social che le immagini che stanno vedendo sei tu nel deserto sdraiato sulla sabbia quando hai avuto la certezza matematica di aver vinto questa edizione della Africa Eco Race prima tua esperienza prima vittoria con Aprilia ecco grande soddisfazione anche grande fatica immagino perché sono stati 15 giorni belli intensi giusto? eh sì perché comunque mi ero preparato bene però è sempre dura e poi il fatto di aver vinto le prime due giornate da un lato mi è stato super d'aiuto perché poi ho gestito sono riuscito a gestire il margine fino alla fine ma dall'altro mi ha praticamente obbligato a non mollare mai un centimetro quindi anche quando ero stanco non potevo dire mollo un po' dovevo sempre tenere duro e cercare di stare con gli altri o stargli davanti e quindi fatica sì queste sono le immagini ancora di Jacopo nel deserto la tua grande enorme direi felicità gioia no soddisfazione poi ecco credo che ci sia anche questa gioia in più che portare al trionfo una moto made in Italy no come poi un marchio come Aprilia che è un marchio storico voglio dire sono tanti altri eh voglio dire ci mancherebbe in Italia però ecco credo che sia un valore aggiunto sì 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 soprattutto esatto un moto italiana marchio che non correva nel deserto da tanti anni da tanto da tanto è vero soprattutto anche il marchio Tuareg che 30 anni fa era comunque nel senso tanti mi scrivono che era il sogno di quando erano ragazzi no a comprare l'Aprilia Tuareg l'Aprilia Tuareg bravo sì da un paio d'anni che hanno rifiuto la Tuareg fortunatamente il gruppo Piaggio poi ha deciso di investire tramite Aprilia Racing appunto nel racing con la Tuareg mi hanno preso come pilota quindi da lì è nato il tutto e è stato bellissimo andare cioè collaborare con loro correre con loro è bellissimo bella vittoria grande complimenti che arrivano da più parti caro Jacopo sono tanti che ti ammirano eh Flora ti fai complimenti Dario Gabriella Luca eh Giuliana Sandra ehm bravo 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 perché poi ecco eh quando parliamo di fenomeno eh in effetti Jacopo lo è a tutto tondo sono ormai tanti anni che gareggia ad altissimi livelli questa era anche una sfida per metterti in gioco no tutto sommato no dopo tanti anni eh con un'altra moto hai cambiato è sempre scontato no Jacopo che si riesce a fare un grande risultato no no infatti anzi poi partendo con un progetto nuovo così è stato all'inizio comunque difficile diciamo che l'obiettivo iniziale era sviluppare la moto portarla pian piano ai massimi livelli però era più un lavoro di sviluppo e poi vediamo questa era la pratica c'è la teoria invece la pratica è stata ah la moto va bene ah tu vai più forte del previsto dai che possiamo vincere tutto esatto infatti è stata un po' sì il alla fine è stata un'annata da sogno da incorniciare decisamente quando vai a Noale che è la sede dell'Aprilia a salutare i vertici dell'Aprilia ma penso di andare verso metà mese sono sono stato eh due o tre volte prima nei mesi scorsi e adesso poi non abbiamo avuto modo di festeggiare la vittoria quindi ci tenevamo a festeggiare anche con appunto i vertici annuale ma anche con alla fine tutte le persone che hanno lavorato nell'ombra no perché c'è tanta gente che che ha lavorato tanto non so sull'elettronica della moto o per farci i motori qualsiasi cosa che poi magari non non viene diciamo ringraziato magari sono persone che hanno contribuito in maniera decisiva alla vittoria e nessuno gli dice mai un grazie perché sembra quasi scontato no invece trovarsi così è un grande team eh mi pare un grande team ti ha supportato un grandissimo team di grandi professionisti sì sì assolutamente sono professionisti questi vengono dalla strada i fratelli Guareschi sono diciamo famosissimi nel mondo stradale e e diciamo portando la loro professionalità e precisione nel mondo off road con un po' di miei suggerimenti un po' anche il mio compagno di squadra che ha aiutato molto a fare i test eh siamo riusciti a creare una moto che alla fine è riuscita a vincere un rally al primo corpo bravo Jacopo davvero complimenti ripeto non facile non scontato non neppure eh neanche certo perché ripeto certo il marchio è importante e prestigioso però poi quando sei nel deserto ecco la cosa che vorrevo magari che tu spiegassi a chi ci sta guardando ed ascoltando sulla radio perché siamo anche in diretta radio ehm da casa in questo momento è che eh il deserto eh mi diceva Jacopo si passa da da temperature basse ad alte l'umidità cioè si passa da un momento all'altro cioè cambia tutto giusto? e devi essere bravo a anche a si cambia cambia tutto sia come terreno da da temperature al terreno sassi sabbia cioè si partiva al freddo è vero al mattino si partiva quasi al freddo quasi in Marocco abbiamo fatto tappe comunque dove al mattino c'erano due o tre gradi ah beh freddo diciamo come qua da noi adesso come a faggetto adesso dove abiti sì sì partire al freddo e poi ad esempio quelle tappe lì cioè sempre all'eco race o alla Dakar fanno sempre partire appena sorge il sole eh perché Jacopo questa cosa perché solitamente lo fanno per avere più cioè appena sorge il sole parte il primo perché almeno lasci più ore di luce se uno sbaglia oppure l'ultimo magari ci mette tanto quindi per non farlo arrivare al buio certo certo sfruttano qualsiasi minuto di luce quindi all'eco race noi partendo sempre primi meno male io mal che vado sono partito terzo peggio che sono partito partendo sempre davanti praticamente quando sorge il sole un minuto dopo entra in speciale io mi ricordo un giorno dopo forse partire in speciale alle 7.30 alle 7.26 non vedevo cioè c'era un po' di chiaro ma non c'era ancora sole arrivo alle 7.29 vedo che spunta il sole all'orizzonte alle 7.30 entro ma magari vai contro sole a 150 all'ora non vedi niente perché c'è il sole proprio pieno in faccia incredibile questa cosa qua e quindi sono tutte queste cose qui poi si passa appunto dai 2 gradi ai 35 35-40 e una gara tutta è così e vi dicevo un'altra cosa per noi profani quando c'è tanto caldo la sabbia com'è Jacopo? quando tu perché lì sono deserto quindi spesso quando fa così tanto caldo com'è gareggiare sulla sabbia? è dura perché generalmente la sabbia si svuota molto di umidità più fa caldo logicamente e quindi diventa molle diventa molto difficile soprattutto con le nostre moto è molle proprio molle molle? sì sì molle molle che io proprio cioè rischi di affondarci dentro sì sì e poi il problema è che ci sono delle zone che magari sono grosse come non so un campo da tennis in cui la sabbia è mollissima poi fai 10 metri in più ed è dura quindi magari arrivi da un punto di sabbia più dura e ti infili in questo ti infili proprio che la moto si ferma lì e tu fai il salto mortale in avanti e atterri nella sabbia e la moto si è fermata di colpo è incredibile e quindi questa roba è anche pericolosa sì sì anche pericolosa le velocità non sono altissime però comunque sì sì sono mille insidie quindi anche quando dopo due giorni mi dicevano la gara è già chiusa hai già vinto pensa solo in 20 chilometri così di sabbia cosa può succedere cosa può succedere basta cadere una volta che non riesco comunque la moto piena pesa 220 kg basta che cade nel modo sbagliato e non riesco a sollevarla o si riempie di sabbia cioè è pazzesca sta cosa ci sono mille variabili è difficile intanto stiamo vedendo anche alcuni articoli che noi abbiamo fatto durante la tua esperienza grazie anche al tuo ufficio stampa che ci hanno dato le foto questa è la foto bella del Trionfo sul podio Jacopo con tutto il tuo team degli Aprilia e le tue parole e sì stavolta le abbiamo fatte a grossa perché in effetti anche tu come hai detto prima insomma va bene si poteva sperare di far bene ma di vincere forse no no anche perché comunque insomma così acerbo il progetto diciamo così non è la prima esperienza lì contro comunque un colosso come Yamaha che non era il primo anno che correva piloti che avevano già corso più di una volta quella gara insomma non era scontato e anche noi abbiamo dovuto un attimo all'inizio onestamente pensavamo di far bene sapevamo di essere competitivi però sai da lì a vincere certo ce ne passa e quindi è stata dura ma l'abbiamo fatta l'abbiamo fatta grossa altre bellissime foto di Jacopo direttamente dall'Africa e Corese vedete qua con il trionfo già in mano con l'esultanza sulla sua moto direttamente dall'Africa eccole qui ancora alcune belle foto che appunto ci ha mandato l'ufficio stampa di Jacopo Ceruti va bene senti hai fatto in modo quando sei tornato hai immagrazzinato questo grande successo hai fatto un po' di vacanze nelle Maldive sì hai staccato non hai pensato alle moto? no per niente anzi ho detto che avrei staccato fino a metà febbraio ma magari torno un po' in moto prima perché ho ricaricato le pile però ne ho bisogno è stata una stagione lunghissima non abbiamo corso tantissimo ma abbiamo fatto tanti test ma anche solo queste due settimane Jacopo in Africa pesanti la preparazione il trasferimento le gare bivacchi perché poi ecco alla sera quando torna quando finisce la prova speciale non è che vengono ospitati in alberghi di due tre quattro cinque stelle no siamo in bivacchi in mezzo al niente veramente e mi diceva che a volte non c'è neanche la connessione per chiamare casa non c'è neanche la linea internet e niente siamo lì fino al giorno dopo per mangiare Jacopo ci chieda per mangiare fortunatamente no c'è c'è il bivacco diciamo lì si può mangiare ma solo a cena ok e comunque noi avevamo dietro due persone del team che ci davano una mano a far da mangiare ah beh fortunatamente mangiavamo sempre quindi italiano cose italiane sì sì cose italiane però ad esempio non so trovavamo lì sul luogo le uova quelle cose lì ci fidavamo a comprare ma tipo la carne in Mauritania non esistono i frigoriferi praticamente a parte in pochi posti hai ragione Jacopo vuol dire il rischio di prendere la carne e poi magari di avere qualche problema intestinale per cui ho fatto praticamente due settimane quasi pasta col tonno e pasta uova sode riso uova sode insomma non è così facile dopo volevo mangiarmi una bistecca veramente quando sei tornato in Italia la prima cosa che hai mangiato una bistecca sì sì mi mancava da morire anche il caffè anche il caffè sì mi mancava però lì avevamo la macchinetta tipo un espresso esatto non un vero caffè da bar vabbè vabbè meglio che niente Jacopo queste sono alcune delle tante curiosità che insomma ci hai raccontato quest'oggi qui in diretta qua ciao come senti cosa c'è adesso nel futuro questa stagione che è appena iniziata visto che siamo anzi a febbraio oggi primo di febbraio cosa c'è Jacopo questa c'è sempre il campionato italiano che comunque motorelli motorelli sì che ci teniamo a correre a riconfermarci campioni ci sarà qualche gara internazionale in cui proveremo ancora un po' meglio la moto sicuramente saranno a fare un po' di modifiche non sappiamo ancora che gara andremo a fare e poi ci sarà ancora l'Africa Eco Race nel gennaio 2025 che appunto sarà un po' la gara clou dell'anno ovviamente come è successo quest'anno e quindi insomma tutto un anno poi incentrato ad andare di nuovo in Africa allora tanti ancora saluti da Giuliana da Andreina da Flora da Dario e anche Ramona che ricorda anche la tua fidanzata come probabilmente era preoccupata bravissimo era preoccupata Betty è abbastanza ogni volta che parti meno del solito ogni volta che parti ma non hai portata neanche questa no non voglio devo essere tranquillo è venuto mio papà si papà so che è venuto sempre viene anzi però lui mi dà anche una mano nel senso se mi dovesse succedere comunque avere qualcuno di fidato no certo è importante la fidanzata non è rimasta a casa quindi va bene da qualche tempo infatti Ramona Jacopo ormai si è stabilmente piazzato a Fageto giusto quindi con cittadino di Fageto quindi allora quest'anno l'appuntamento con il trecolore e poi ovviamente lo sguardo è già rivolto a quello che può succedere perché l'Africa Eco Race credo sia una bellissima esperienza si è un'esperienza pazzesca se aprilia ti dice ti riconferma ma penso proprio di che si si no no già al contratto fino alla prossima Eco Race quindi sicuramente fino a gennaio prossimo fai parte di un grandissimo team un team importante prestigioso e soprattutto ecco quello che è successo nella MotoGP pilota italiano Pecco Bagnaia che vince con Moto Italiana la Ducati e in questo caso Jacopo Ceruti chiaramente non sulla pista ma nel deserto con Aprilia anche altro marchio che corre nella MotoGP anche Aprilia non dimentichiamocelo per cui è sicuramente è un grande risultato insomma sostanzialmente Jacopo come sempre grazie della tua cortesia credo abbiamo detto praticamente tutto qualche curiosità di questa esperienza africana e ovviamente il ritorno a casa il riposo però mi dicevi che già a breve la voglia la voglia della moto la voglia della moto ecco c'è un nostro amico che ci ha scritto prima sulla nostra messaggistica di Messenger e ci chiede ecco com'è l'allenamento di un pilota in questo caso tuo non da pista ma diciamo fuoristrada tocco per così dire fisicamente mi alleno tanto palestra bicicletta tanta palestra Jacopo allora solitamente andavo più in bici e andavo in moto invece da quando corro con l'Aprilia che è una moto che pesa 50 kg in più delle monocilindriche che usavo prima è più pesante quindi sì perché è una bicilindrica ah giusto è vero è 6,60 cilindrata bicilindrica quindi più grossa più pesante ho fatto più palestra quest'anno ho cercato di mettere qualche chiletto in più quindi anche l'aspetto palestra è importantissimo per un pilota vero Jacopo? sì sì assolutamente e insieme a questo curare la parte cardio quindi a me piace andare in bici o correre ma più bicicletta quanto fai di bici mediamente quando esci un'uscita normale Jacopo? ma tipo gli allenamenti facevo prima delle co-race sulle 3-4 ore 100-120 km una cosa così anche nuoto hai detto poi? no no moto ah moto scusa nuoto no nuoto magari d'estate così ma non mi piace tanto e poi in moto appunto non riusciamo a ricreare proprio uguale l'allenamento del deserto se non quando andiamo in Tunisia a testare però con la moto da cross mi alleno a casa eccetera tanti complimenti per Jacopo sui nostri social ovviamente personaggio che certamente è un personaggio ormai anche una figura di riferimento per il mondo delle moto qualche annetto ce l'ha ormai di esperienza alle spalle però ecco la passione Jacopo mi pare che è quella di un ragazzo di 17-18 anni sì per quello sì 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 adesso hai superato i 30 sì 34 esatto però no no devo dire che sia allora fisicamente mi sento più in forma che mai perché alla fine so sempre meglio cosa serve al mio corpo per rendere al massimo quindi anzi ogni anno che passa quasi sembra che sto meglio degli anni prima la passione c'è sempre è chiaro che quando una cosa poi diventa il tuo lavoro è sempre un po' più difficile gestire passione obbligo lavoro non capisci mai fin dove arriva la passione fin dove invece è un lavoro però in generale ho sempre tanta passione per quello che faccio mi piace tanto anche allenarmi andare in bici andare in palestra non riesco a star fermo quindi alla fine è la vita giusta per me e sì stavolta l'abbiamo fatta grossa queste le parole di Jacopo al suo rientro in Italia con la sua briglia che vedete nelle immagini qua per la pagina sulla nostra pagina Facebook e anche sulla nostra pagina di Youtube quindi l'intervista di oggi diciamo termina qui con il nostro campione che ogni volta regala grandi soddisfazioni anche ai tuoi tanti tifosi che ti seguono da casa grazie Jacopo allora appuntamento con il Motorelli dunque adesso a breve 20 aprile la prima 20 aprile la prima e poi vabbè molti ti aspetteranno ancora per la prossima Africa Eco Race non sarà non è facile confermarsi a questi livelli giusto anche perché ho visto la concorrenza avevi tanti tanti rivali veramente importanti Jacopo si e soprattutto quando schiacci la coda al cane rosso poi abbia forte e quindi anzi morde forte quindi sarà dura però io faccio sempre il mio faccio insomma io cerco sempre di fare il mio massimo poi se abbastanza per vincere bene se no ci riproverò però ultimamente è sempre abbastanza per vincere quindi mi sta andando bene grazie Jacopo Ceruti con noi oggi questo pomeriggio in diretta a Sport Magazine per parlare di questa Africa Eco Race vinta alla grandissima buon lavoro grazie a presto grazie a voi a presto ti aspettiamo